Rispondiamo finalmente alla domanda delle domande. Si possono o no fare 2.000 euro al mese con il trading automatico? Ci sono i risultati? Ci sono le dimostrazioni? Quanto capitale ho bisogno per produrre questi 2.000 euro al mese? Beh, questo è un esempio. Questo è l'andamento, mese per mese, di questo trading system. Qua, che non ho solo io, non è un trading system segreto, un codice segreto, un expert advisor segreto, un trading system su SP500 che decine e decine di miei studenti hanno, così com'è, codice aperto, e che utilizzano sui loro conti da anni. Non ci interessa, parliamo solo del 2023, proprio il periodo più recente in assoluto, anche se è out of sample da una vita, anche se potrei dire tranquillamente che da quando l'ho realizzato ho creato più di 100.000 euro. Non mi interessa, ma pazienza! Prendiamo solo il 2023. 24.000 dollari mese dopo mese. Ed effettivamente, se prendiamo la calcolatrice, facciamo 24.112 dollari diviso 5 mesi, consideriamo anche maggio, fa 4822 euro di un trading system assolutamente normale e che decine di studenti stanno attualmente tradando. Quindi, sì, il trading automatico permette di generare anche 2.000 euro al mese, ma approfondiamo. Quanto capitale serve? Quali altre dimostrazioni ci sono? Lo vediamo in questo video insieme. Benvenuti a tutti, signori, in questo nuovo video. Io sono Francesco Buzzi, faccio fino a 16.000 dollari in un mese, con poco capitale, leva finanziaria inferiore a 30 e senza trucchi magici, per scoprire come, link in descrizione o numero verde 800 475 300. Oh, finalmente parliamo di questo stipendio da creare con il trading automatico, dei 2.000 euro che ogni mese mi devono entrare con il trading automatico. Andiamo a step. Punto numero 1. Il sistema pubblico di cui sto parlando è un sistema su SP500, è un sistema particolare, non stiamo a spiegare esattamente che tipo di sistema è, è un sistema a codice aperto che decine di persone stanno attrattando in questo momento sui loro conti, ok? Perfettamente così, esattamente così. È un sistema che ho creato nel 2018 e che da subito ho reso disponibile, che nel tempo ho reso sempre più disponibile. Se consideriamo anche solo 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ha fatto più di 100.000 euro da quando l'ho creato. E ripeto, non l'ho tradato solo io facendo questi soldi, l'hanno tradato decine di studenti. Bene. L'altra, prima di parlare di, ho capito, ma quanto capitale mi serve per generare questo rendimento, un'altra dimostrazione è questo portafoglio. Questi sono portafogli tradati ex ante, in cui ogni mese io scrivo esattamente e dimostro quali trading system traderò il mese successivo. Questi sono i trading system scelti nel 2023 maggio. Quindi è tutto tracciato e hanno fatto il 62% in sette mesi. E' effettivamente, se andiamo a prendere la calcolatrice, il 62% di 100.000 dollari sono 62.000 dollari in sette mesi. Sono 8.800 dollari al mese di rendimento in sette mesi. Oppure, ad esempio, il portafoglio da 15.000 dollari è generato il 18%, arrotondiamo al 20 per essere comodi, sono 3.000 euro. Quindi, 3.000 euro in sette mesi investendo 15.000 dollari. 15.000 dollari abbiamo fatto il 30%. Insomma, abbiamo fatto 3.000 dollari investendo solo 15.000, appunto il 20%. Non c'era tanto da calcolare. Il 20% in sette mesi. L'altra dimostrazione è questo. Da uno dei miei conti di TradeStation, 21.000 dollari di capitale, 16.000 dollari di guadagno in un singolo mese. This month activity era agosto, tra l'altro. Bene. Ma questi soldi, tutto questo profitto, ad esempio, di questo sistema, con quanto capitale? Beh, c'è un modo impreciso di calcolare il capitale che però ci può aiutare. Ad esempio, i soldi che ha fatto nel 2023 sono 24.000 dollari. Quanto capitale serviva per tradare questo trading system? Beh, il capitale minimo è il margine che il broker ci chiede. Ci chiede sempre un margine per aprire una posizione. In questo caso il margine è 12.000 dollari. 12.000 dollari. Quindi in 5 mesi abbiamo fatto più 50%. Ovviamente sono capitali anche utilizzabili con i micro future, quindi 2.400 dollari investendo 1.200 dollari. Si può investire anche 1.200 dollari con questo sistema, più 50% anche con capitale minore. Questo è un esempio di calcolo su trading system singolo, che tipicamente non consiglio, perché consiglio di andare live con almeno 10.000 dollari, per andare live non con un sistema, ma con un portafoglio, perché c'è la diversificazione, c'è la gestione del rischio. Non è questo il video per approfondire, ma questo è un modo per fare i calcoli. Impreciso, ma che ci dà un'idea del profitto. Oppure, l'idea del profitto è proprio questo, il 62% è stato fatto partendo da 100.000 euro. Il 18% è stato fatto partendo da 15.000 euro. Partendo da cifre fisse, è stato fatto 2.700 dollari investendo 15.000 dollari in 7 mesi. Ok? Questi sono i calcoli veri del trading automatico. E questo è un esempio reale di statement di un broker. Punto. Si possono fare 2.000 euro al mese con il trading automatico? Assolutamente sì. Questi 2.000 euro sono fissi? Sono garantiti? Mi possono entrare senza studiare, senza soldi? Posso metterli lì e non preoccuparmene mai? Posso andare alle Bahamas? È tutto un meccanismo di guadagno facile? Schiocco le dita e mi arrivano i soldi? Ecco, questo no. Ad esempio, il sistema, basta vedere l'andamento del sistema di cui abbiamo parlato, che fa il 50% nel 2023, ragazzi, non sono tutti i mesi positivi. Ci sono anche mesi negativi. Sali e scendi. La media sarà 2.000 euro al mese, ma un mese sarà negativo, un mese sarà positivo, un mese sarà a metà-metà, un mese chiuderà a zero, eccetera, eccetera, eccetera. A partire da 10.000 euro si può generare un buon ritorno mese dopo mese, ma non esiste il ritorno automatico, ok? Quindi, si possono fare 2.000 euro al mese con il trading automatico? Sì, e ho tonnellate di prove. Serve un capitale minimo, serve studiare, e serve non aspettarsi che il trading automatico risolva tutti i problemi. Ma per il resto, certo che si può fare. Come? Link in descrizione, numero verde, ovviamente perché insegno anche il metodo per approcciare questa cosa, proprio perché non è facile, serve una guida, serve approfondire alcuni argomenti. Detto questo, per approfondire appunto, link in descrizione, vi auguro una splendida serata, e noi ci vediamo con un prossimo video sabato. Ciao!